L'Abruzzo è ancora zona arancione. La cabina di regia ministeriale ha deciso di applicare rigidamente la regola dei 14 giorni, ovvero il minimo lasso di tempo previsto per la zona arancione. Le due settimane sono contate a partire da domenica scorsa e quindi non vale per il conteggio la settimana in cui la regione aveva stabilito autonomamente il livello intermedio di restrizioni. Sono deluso, fa sapere il presidente regionale Marco Marsilio. Siamo tra le cinque migliori regioni per l'occupazione dei posti in terapia intensiva e c'era la possibilità di derogare sulla base dei nostri numeri, sottolinea il governatore, ma ci siamo trovati davanti all'insistenza di non voler fare i conti con la realtà. L'Abruzzo quindi rimarrà arancione per la settimana di Natale e se così venisse deciso venerdì prossimo, domenica 27 potrebbe scattare la zona gialla. Le zone a colori hanno funzionato, ha rivendicato il premier Conte ieri sera a reti unificate, nei prossimi giorni potrebbe tornare gialla tutta l'Italia. Le misure messe in campo dal governo e il sistema zone hanno funzionato, tant'è che abbiamo riportato sotto controllo la curva del contagio grazie alla responsabilità dei cittadini. Questo metodo, lo ricordo, ci ha permesso di evitare il lockdown generalizzato che avrebbe danneggiato a lungo e gravemente, peraltro per la seconda volta, il nostro tessuto sociale ed economico. Ed ecco annunciate le regole per le feste, questa volta contenute in un breve decreto legge piuttosto che in un DPCM. E vi assicuro che non è una decisione facile, è una decisione sofferta. L'Italia sarà zona rossa dal 21 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Il 24, 25, 26, 27 e 31, poi il primo, il 2, il 3, il 5 e il 6, gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute o necessità. È possibile però recarsi nelle abitazioni private, così da consentire festeggiamenti, ma per un limite massimo di due persone. Disabili e minori di 14 anni sono esclusi dal conteggio. È però incostituzionale fare controlli di pulizia a casa della gente, a meno che non vi sia la flagranza di reato. In questi giorni quindi varranno le massime restrizioni, chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti, aperti supermercati, alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole, parrucchieri, lavanderie. Negli altri giorni invece vigerà la zona arancione, coi negozi aperti, e rimarranno vietati gli spostamenti tra un comune e l'altro, ad eccezione dei centri con meno di 5.000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri. Ad ogni modo però non ci si potrà arrecare nei capoluoghi di provincia. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, esteso fino alle 7 la notte di Capodanno. Conte inoltre ha annunciato nuovi ristori e sospensione dei tributi per chi sarà danneggiato dalle restrizioni natalizie. In particolare 645 milioni sono stati stanziati a favore di bar e ristoranti. Sono cose che devono viaggiare insieme. Misure restrittive, nuovi aiuti economici da erogare direttamente in modo efficace con meccanismi sempre più veloci. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato. E Conte conferma che il 27 dicembre arriverà il vaccino anti-Covid. Ci avviamo verso la fine dell'incubo, le parole del Premier. Ovviamente non risolveremo il problema il 27 dicembre. Dovremo attendere i primi mesi dell'anno dove inizieranno poi a distribuirsi queste dosi. Interverremo con un piano vaccinale che abbiamo già anticipato. Dobbiamo trovare in questa certezza la forza di chiudere questo brutto capitolo insieme. Dobbiamo ancora rimanere concentrati, non abbassare la soglia di attenzione. Grazie a tutti.